Reggio Emilia è la mia città, è il posto in cui mi riconosco di più. Per me Reggio Emilia vuol dire la città del tricolore. In questi dieci anni non è stata ferma, abbiamo ottenuto ottimi risultati riqualificando la città. Ho percepito una crescita esponenziale, ho visto anche l'insediarsi di molte aziende. Reggio Emilia, secondo me, la possiamo ritenere una città all'avanguardia sotto diversi punti di vista. È una città molto aperta e accogliente. Grande, ma allo stesso tempo piccola. Poter appartenere a una terra che per tanti, anche idealmente, è rimasta come segno da seguire. Dovrebbe farci riflettere, dovrebbe renderci degni di chi ci ha preceduto. Deve essere una città fondata sul rispetto, sull'uguaglianza, sulla libertà e sull'accoglienza. Vorrei che la mia città fosse una città a misura d'uomo. Reggio Emilia per me è una città sostenibile perché è facile muoversi in bicicletta. Ci sono tanti progetti per fare in modo che questi spazi per i cittadini siano curati e vivibili. Io vorrei fare tante scuole. Un parco con un ponte un po' altino e con degli scivoli. Reggio Emilia è una città che sa di sport. È una città che vive lo sport nella sua vita quotidiana. Una città fatta di grandi opportunità dove la gente, soprattutto le persone disabili, possono essere più libere. È un grande onore lavorare presso l'ospedale e il centro di ricerca di Reggio Emilia. È sicuramente una città molto ricca anche dal punto di vista della sanità. La città di Reggio Emilia riconosce il valore dell'allevamento e dell'agricoltura perché se fatto nel giusto equilibrio riesce a star bene sia l'allevatore che il cittadino. Reggio Emilia è la mia casa. Per me la casa è un luogo sacro, un luogo che deve essere ospitale, accogliente, pulito. Un luogo che va curato da tutti, sia da chi lo sente suo come me, sia da chi invece si sente di passaggio. Il futuro sarebbe pieno di negozi, pieno di attività, dove ci si trova, dove c'è l'incrociarsi delle persone. Reggio Emilia deve continuare sulla strada che ha percorso fino adesso. È la strada dello sviluppo, è la strada del benessere. Mi immagino una città in cui i giovani prendono in mano la palla perché senza giovani non c'è futuro. L'esempio della nostra città, i valori della resistenza, i valori della socialità si coniugano con la città del futuro. Grazie a tutti.